In termini generali potremmo dire che il caporalato è quella realtà nella quale il capitalismo si mostra ignudo e senza maschere, senza infingimenti e in forma diretta per ciò che realmente è nella sua essenza. Schiavitù, sfruttamento spietato, utilizzo della forza lavoro altrui a beneficio di terzi. Il caporalato dunque non è altra cosa rispetto a un capitale di per sé buono e filantropico, al contrario esprime massimamente l'essenza del capitalismo stesso, di quel capitalismo che altrove cerca di mostrarsi in forma incivilita e che poi nei campi di pomodoro del caporalato si mostra nella sua forma più spietata. Il caporalato del resto tende a fare scuola, se così vogliamo dire, se si considera il fatto che oggi anche grandi gruppi dell'e-commerce hanno introdotto vere e proprie forme di caporalato digitale, con uno sfruttamento senza decoro dei propri lavoratori, che addirittura sono controllati panotticamente mediante braccialetti elettronici, sono cronometrati nei tempi degli spostamenti e degli impacchettamenti delle merci che debbono gloriosamente circolare per il mondo. E proprio in questi giorni, mentre si torna a discutere di caporalato, accade che i migranti occupano la Basilica di Bari, guidati dal loro leader, Abu Bakr Sumahoro, il quale ha lanciato l'urlo prima gli sfruttati. Personalmente ritengo che questa iniziativa debba essere pienamente appoggiata, perché Abu Bakr Sumahoro sta portando avanti una giusta e sacrosanta lotta, quella degli ultimi contro i primi, o come egli stesso ha affermato, degli sfruttati contro gli sfruttatori. È la vecchia lotta del lavoro, migrante autottono, contro il capitale cosmopolitico no border. Per questa ragione, credo, la protesta di quanti insorgono contro il caporalato merita rispetto e pieno sostegno. Ora, occorrerà capire se questa lotta, che ripeto è sacrosanta, si determinerà fino in fondo come lotta del lavoro contro il capitale, del basso contro l'altro. O se invece il capitale, come al solito, saprà fagocitarla e la trasformerà in lotta orizzontale tra migranti autottoni, ossia in una lotta tutta interna al polo degli sfruttati, tutta interna al polo del servo nazionale popolare. Sotto questo profilo sappiamo che il capitale è abilissimo nel dirottare le insorgenti lotte di classe verso i binari morti delle lotte interne al polo dominato. Il capitale anzi vive e prospera grazie alla orizzontalizzazione del conflitto, di modo che si scambino per nemici gli amici e per amici i nemici. Il capitale vive grazie a micro-conflittualità orizzontali tutte interne al polo dei dominati, di modo che essi, anziché unire le forze e guerreggiare contro l'alto che li sfrutta, confliggono fra loro nel piano orizzontale che li vede contrapposti fra servi migranti e servi autottoni, servi fascisti e servi antifascisti, servi comunisti e servi anticomunisti, servi donne e servi uomini, servi omosessuali e servi eterosessuali e così via. Sono le infinite armi di distrazione di massa e di distruzione di massa impiegate dal capitale, che per un verso spacca la base del basso, dell'orizzontalità del conflitto, facendo in modo che i servi non si uniscano mai ma restino permanentemente divisi in conflitto fra loro e per un altro verso distrae le masse rispetto alla contraddizione principale che inevitabilmente resta quella del capitale, del classismo, dell'alienazione che consustanzialmente lo caratterizzano. È chiaro dunque che il capitale, anche in questo caso, farà di tutto per evitare che si costituisca il fronte unico degli sfruttati, quel prima gli sfruttati evocato dal leader che sta guidando la protesta. Il fronte unico degli sfruttati è il precariato, come l'abbiamo definito nel nostro studio Storia e Coscienza del precariato, Servi e Signori della Globalizzazione del 2018. Il precariato è la nuova classe degli sfruttati, che al proprio interno non è più solo occupata dal vecchio proletariato urbano di fabbrica, ma al contrario racchiude anche i ceti medi pauperizzati, racchiude anche tutte quelle figure intermittenti di lavoratori precari che stanno ai bordi della produzione, ora essendovi impiegati, ora rimanendo esterne ai processi della produzione come disoccupati. Insomma è la classe dominata 2.0 nella sua nuova evoluzione post-fordista propria del capitalismo flessibile. Ecco perché oggi il vero conflitto di classe, lungi dall'essere sparito, si dà nella forma del conflitto tra il precariato, o in termini egheliani tra il servo, e la classe apolide cinica degli squali della finanza cosmopolita, il signore global elitario. Ecco dunque, bisogna capire se il capitale riuscirà a spaccare il fronte del precariato e fare in modo che questo fronte guerreggia al proprio interno. Del resto sappiamo che il vero nemico oggi è sempre e solo il signore globalista, la cinica classe degli ammiragli della finanza e dei cartolarizzatori del futuro dei popoli. E' quel nemico che per inciso deporta migranti dall'Africa per abbassare i salari e sfruttarli senza pietà nei campi di pomodoro. E' quello stesso nemico che precarizza il lavoro e va ripetendo che non possiamo più vivere al di sopra delle nostre possibilità. E' questa la formula preferita delle retoriche neoliberiste. Lo dico dunque senza ambagi e senza perifrasi. Finché ci sarà uno sfruttato bianco che si sentirà più vicino a un finanziere bianco che ha uno sfruttato nero, o il che è lo stesso, finché ci sarà uno sfruttato nero che si sentirà più vicino a un finanziere nero che ha uno sfruttato bianco, allora il capitale trionferà. Continuerà, diremo con Marx, a celebrare le proprie orge. Sono queste le solite armi di divisione di massa e di distrazione di massa, come dicevo, di divisione perché viene spaccato il campo degli sfruttati, di distrazione perché si sposta l'attenzione verso questioni del tutto secondarie rispetto alla lotta di classe. La questione del razzismo, dell'accoglienza e così via. Tutte quelle forme di distrazione, ripeto, rispetto al conflitto di classe. A questo punto occorre rilevare come tanto le destre regressive quanto le sinistre fucsia, che in ciò sono perfettamente sovrapponibili, faranno esse stesse di tutto per evitare la lotta di classe dal basso, ossia il fronte unitario degli sfruttati. Le destre regressive si rivolgeranno agli autoctoni perché individuino il nemico nel migrante e non nel capitalista sfruttatore, nel deportatore cosmopolita che sfrutta i lavoratori, migranti autoctoni, che ripete porti aperti imponendo la libera circolazione delle merce e delle persone mercificate. Per parte loro le sinistre fucsia si rivolgeranno ai migranti affinché individuino il nemico negli sfruttati autoctoni, ceti medi e classi lavoratrici che verranno classificati come intrinsecamente xenofobi e intolleranti e invece addirittura scorgano il profilo dell'amico nel deportatore che dice porti aperti, nel capitalista sans frontières che in nome della libera circolazione delle merci e delle persone vuole che i porti siano aperti, in astratto in nome della tolleranza e in concreto per avere nuova carne umana da sfruttare spietatamente nei campi del caporalato. Ordunque sia le destre regressive sia la sinistre fucsia eviteranno in ogni modo la ricomposizione del conflitto di classe del basso contro l'alto, degli sfruttati contro gli sfruttatori. Le destre regressive trasformeranno more solito la lotta di classe in lotta di classe del basso verso il basso, autoctoni contro i migranti, senza che naturalmente il padronato cosmopolitico nemmeno più venga menzionato e men che meno combattuto. Dal canto loro le sinistre fucsia opereranno come sempre, nel loro pieno tradimento di Marx e di Gramsci, dirottando la lotta di classe marxista verso il binario morto delle risibili lotte arcobaleno, la nuova pappa del cuore diremmo con l'Egel della fenomenologia dello spirito, le lotte arcobaleno dell'accoglienza contro l'intolleranza, dell'integrazione contro il respingimento. Ovviamente la storia reale non sa nulla di questa contrapposizione generale generica e astratta di accoglienza contro l'intolleranza. La storia reale conosce solo la lotta di classe tra sfruttati e sfruttatori, tra lavoro e capitale e sa bene che fa parte della retorica del capitale predicare la tolleranza in astratto la quale dialetticamente si converte in porti aperti funzionali alla deportazione di nuovi schiavi che moriranno nei campi di pomodoro del caporalato e serviranno al padronato cosmopolitico inoltre per abbassare i costi della forza lavoro e per rinfocolare la lotta di classe del basso verso il basso, la lotta di classe tra i poveri della quale traggono beneficio colori quali i poveri non sono. Anche in questo caso ovviamente il padronato cosmopolitico non sarà nemmeno menzionato e in ciò paradossalmente si tratta di un'antitesi tra due poli complementari, due poli in antitesi polare diremmo con il Lucas dell'ontologia dell'essere sociale, due poli antitetici al tempo stesso complementari, ebbene la destra regressiva e la sinistra fucsia si completano a vicenda, entrambe servono al padronato cosmopolitico per rendere invisibili le faglie del conflitto di classe e per fomentare il conflitto di classe del basso verso il basso, di modo che mai si riverticalizzi il conflitto e gli sfruttati uniti combattano contro gli sfruttatori che in alto sono quelli che predicano accoglienza e integrazione concretamente operando nella direzione opposta, in vista cioè dello sfruttamento illimitato degli esseri umani deportati nei campi di pomodoro, in vista ancora dell'abbassamento costante delle condizioni del lavoro grazie alla concorrenza al ribasso resa possibile dalla deportazione di massa di schiavi dall'Africa e ancora grazie a questa nuova deportazione fomentano in ogni modo, come già diceva Marx nell'Ottocento, lotte di classe tra gli ultimi conflitti fra sfruttati migranti e sfruttati autoctoni. La classe dominante vive di questa conflittualità nel basso e utilizza i padroni del discorso al proprio guinzaglio, la casta sacerdotale dei giornalisti per alimentare senza posa il discorso intorno a questa conflittualità fra migranti. Grazie. 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 Grazie.